Eh, beh, ma a me il primo scatto chi me lo paga? Eh, ma... No! Eh? Dunque... Senta, per favore, leva il piede da lì che la macchina è nuova. Beh, che scarpe mie sono nuove. Ma io mica le metto la ruota sopra le scarpe. Scusi, sa. No, no, scusi lei. Vogliamo andare fuori, 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 verso Ansio, un po' prima, dove c'è quella pineta. Eh, Lavinio, no? Eh. Facciamo a Tassama o a Forfè? E dipende a che ora vogliono tornare. E chi lo sa? Quando ci siamo stufati. Eh, eh, eh. E allora facciamo a Tassametro. Eh, quanto verrà? Eh, si fa presto, sono 50 km, se non di più, 50, 100, un due ore di sosta. Eh, facciamo 8000 e non se ne parla più. No, 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 8000 fino alle 5, tutto in testa a Tassametro. Ah, è vero, no? Andiamo. Eh, o io fa una dormita. Eh, dormi, dormi, fai bene, ti dico io quando devi svegliare. No, me lo dico da me, me lo dico. E non ti puoi mettere sullo strapuntino che fa caldo? Eh, no, è vicino a te. Oh, è coso? Ma, ma vedi che è stufido, fa pure gusto. Senta un po', senta, passi per San Pietro, poi quando siamo lì io dico dove. Oh, big, 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 big honey! No, 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 tanto da era da dal zum. No, no, no. No, 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 no. Ma quando ve lo portiamo su, lo datete in anticipo, sì. Cento. E poi? Il resto non sarà un granché, eh? Quando la portate? Beh, io penso fra un fardone, va bene. Va bene. Oh, beh, che è sta novità? Che c'è, è un po' più fresco qui. Sì. Vieni dietro, muovite, sullo Strapuntino ci si mette lui. E cosa non viene? No, contenta? Tutto a posto. No, 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 no. Dici, guardate ragazzi, ci facciamo il bagno alla bella marinara. Cioè? Cioè, se è andato allo stabilimento, facciamo il bagno come da fatto mamma. E per me risparmiamo i soldi dalla gabbina. Tant'è, io mi ho portato a quest'ultimo. E come facevi? A stupido, la svittavo. Uh, che schifo. Perché? Non lo so, a me piace la roba mia. Ma è quella degli altri no. No, mi piace la roba mia. Ma che mi stai raccontando? Questa forza allora non era di Amalia. Beh, e non mi piaceva. Poi è diventata a me e mi piace. Oh, bingo bong 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 b Eccolo, che mare, ma lo vieni che mare? Ammazzalo Allora ha deciso, è come mammata Ah, per me? Lina, pure tu come mammata, eh? Ma strane, io mi tolgo il vestito e sto a forza Senta, volti qua a sinistra, poi ci dovrebbe essere anche un'altra strada Sì, sì, poi le palestre le paga lei E si capisce che le paga io, ma meglio è bravissimo, va piano, eh Ma l'esercizio, ragazzi, lo vieni che male, ragazzi Fermi, fermi qui Eh, no, eh, un'era lontana Ah, io lo diciamo per ritornare, per fare manovra Ma lei stia tranquillo, che ci penso io alla manovra Eh, mi pare, ci pensa lui, no? E se poi lui c'ha fame? No, ma non è un'era lontana, signorina Poi andiamo pure a mangiare Ah, che no, ma non è Non viene a fare il bagno E con questo caldo Oh, grazie, guardi, io sto bene qui Oh, ecco la nostra cabina, signorina si accomodi No, stagliati prima tu Lei può venire con noi, sa? Non disturba, se non ti formalizza Perché noi, ve lo vieni, eh? Eh, come no? E noi vogliamo stare in libertà Un pinolo Un altro, guarda Ammazzali, guanti Hopla, hopla, hopla Beh, come ammammate E' tutto qui Dopo, dopo di te, non voglio metterti in imparare Forza su E spogliati No, che fretta c'è Io già sapete che vi dico? Ho già fame Andiamo a comprare qualcosa e portiamola qui Sì, vado io con lui Eh, chissà che roba vi Guardi, no, se mi danno l'ordinazione ci vado io con la macchina No, no, ci facciamo una corta lungola a spiaglia Sai come ci fa bene? Così vediamo quello che ci fa Eh, sì, sì Eh, le vi piace darci un'occhiata alla roba, grazie Oh, ce l'hai tu? Sì, sì, ce l'ho Andiamo, Lina, vieni Eh, tu, dai No Facciamo presto, ci facciamo un po' l'allenamento Sì, sì, sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Andiamo, Lina, vieni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo arrivati laggiù, ma sono lontani, lontani. Da qui si vedono ancora, eh? Si fa ridere così con sto vestito. Ma che fa? Si tolga almeno quella palandrana. Ah beh, insomma, vedi? E' pure abbronzato, dunque i bagni li fa. Oh, vedete come è strano! L'acqua è verde, 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 verde. Per lei sa ragione lei, mi sta tanto bene, traiate qui al sole. Ma non ci vorrebbe un cuscino. Ecco, guardi, si metta qua, questo qui... No, quello è troppo forte. Ma no, guardi, guardi come si sta bene, si sente così? Oh, ecco, mi faccia lei del cuscino. Ah, scusi, ma ci voleva proprio. E senta, se vuole io le vado a prendere un cuscino nella macchina. Perché? Sta tanto male così? No, ma è che non mi sento un cuscino. Sarebbe a dire? Perché non me la capisano. No. E che lei non si rende conto che è un uomo in tua macchina. Beh? E che cosa c'è di fatto straordinario un uomo? Senta, signorina, lei è venuta qua in compagnia, io sono una persona per bene. Quando parla, muove tutto lo suomo che mi fa un effetto, tanto curioso. Ma gliel'ha mai detto a sua moglie? E che moglie? Io non sono mica sposata. Ah no, è questa? Questa. E che la fede si porta qua, quella si porta qua. Questa era di mia madre. Senta, allora glielo vado a prendere questo uomo? Ostia, fermo, io sto così bene.